Prima categoria a Girono e Visse di cesia ma giornata al San Carlo di Voltri sfida al vertice tra la Voltrese prima con 31 punti e la Superba seconda con 29. Due squadre in lizza per la vittoria finale assieme a Lampi e il Multedo. Dopo pochi secondi la prima emozione dell'incontro il tiro di Magalotti viene respinto da Molinari secondo i giocatori della Superba con un braccio secondo l'arbitro Di Maria ben appostato in maniera regolare. Ancora ospiti pericolosi poco dopo con Riviecio la punizione viene respinta pugnoniti da Mancuso. La strada della Voltrese diventa in salita al minuto 25 quando Moscamora rimedia due cartellini gialli per questi interventi e lascia i suoi in inferiorità numerica. Alla ripresa del gioco la Superba va vicinissima al gol con la Monica che coglie una clamorosa traversa e sul proseguo dell'azione i giocatori ospiti reclamano un calcio di rigore per questo presunto contatto in aria che possiamo rivedere grazie al montaggio di Alice e Lisetti. Nel finale di primo tempo esce fuori la Voltrese con Bianco che su punizione scalda le mani a Bertulessi in due occasioni. Nella prima facile l'intervento dell'estremo ospite e nella seconda è prodigioso il suo balzo felino a respingere la palla. A inizio secondo tempo Razero sfrutta un'indecisione difensiva della Voltrese e coglie il palo. Rivediamo la clamorosa occasione degli ospiti non sfruttata. Ospiti che subito dopo sferano il vantaggio con Campazzo che viene fermato dall'ottimo portiere Mancuso. La Voltrese replica con questo corner velonoso battuto da Molinari che Bertulessi respinge a fatica. Al settantesimo Limonta premia l'imbucata di Zamana che si libera al tiro ma la sua conclusione termina abbondantemente alta. È il preludio al gol della Voltrese che passa al minuto 76 a seguito di una punizione battuta da Merialdo che Bertulessi respinge il rompe Ferrari che porta in vantaggio i gialloblu. Con il montaggio curato da Alice e Lisetti rivediamo il gol del numero 18 subentrato nel primo tempo. Voltrese che prova a mettere al sicuro la partita in due occasioni con Zamana ma entrambi le situazioni non hanno un esito positivo. La Superba si ripresenta davanti all'ottantaduesimo con Liguori. Mancuso è coraggioso attento, esce sui piedi dell'attaccante della Superba ma rimane a terra dopo il duro contatto. Finale ancora dalle mille emozioni, novantatreesimo. Voltrese ancora pericolosa con Piccardo che sfrutta la spizzata di Zamana e conclude a rete. Ma al quinto minuto di recupero la Superba pareggia a seguito di una contestata punizione che possiamo rivedere in maniera rallentata. Sulla palla si presenta Scione che supera l'incolpevole Mancuso e fissa il risultato finale sull'1-1. Anche in questo caso possiamo rivedere il gol del numero 20 ospite che permette alla Superba di recuperare una partita che sembrava ormai persa. Arcidiacono della Voltrese prosegue le sue proteste per la punizione assegnata agli ospiti e lascia i gialloblu in nove uomini. Finisce in parità il big match di prima categoria girone B. Gol che arrivano da giocatori subentrati a partita in corso. Ferrari per la Voltrese, Ascione per la Superba. Gara nervosa in cui l'agonismo ha avuto supremazia sulla tecnica.